Ciao, io sono Silvia Boccardi. E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI. Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento. Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro. Mosca deve fare i conti con Pechino. La Cina, le cui mosse erano state inizialmente interpretate come un moderato appoggio alla Russia, ha evacuato già 6.000 cinesi finiti sotto i raid russi e si è astenuta dal voto all'Assemblea delle Nazioni Unite contro la Russia, ma non si è schierata dalla parte del Cremlino. Per capire meglio che cosa sta succedendo e il ruolo della Cina in questa guerra, oggi parliamo con Filippo Fasulo, analista dell'osservatorio Geoeconomia di ISPI. Ciao Filippo! Ciao! Filippo, parto da una domanda grande perché voglio capire un po' con te che cosa sta succedendo. Il Financial Times sostiene che la Cina potrebbe essere il possibile mediatore, la possibile mediatrice, anzi, tra Russia e Ucraina. Secondo te ha senso questa opzione? Ma potrebbe avere un senso, nel senso che è Pechino l'unica che può avere una leva nei confronti di Mosca, ammesso che qualcuno effettivamente abbia questa leva su Mosca. L'idea è che invece sia una partita molto russa e che sia Putin da solo a decidere come proseguire. Beh, è chiaro. Guarda, in questi giorni qualche volta si è parlato più di Cina che del conflitto, almeno tra chi si occupa di politica internazionale. L'ho trovato un po' paradossale. Certo, ci dà l'idea dell'importanza della Cina oggi. Continuiamo a dire, ma la Cina sapeva, ma la Cina potrebbe mediare, la Cina alleata, no? La Cina in realtà non è alleata, la Cina si astiene, la Cina vota contro. Insomma, c'è quella che chiamiamo un po' la China Obsession. Stiamo sempre in questa che a volte è un po' pettegolezzo, però proviamo a circostanziarlo. Una delle affermazioni che sono state fatte è quella che Pechino sapeva dell'invasione e ha chiesto a Putin di aspettare la fine dei giochi olimpici invernali, perché questo ovviamente, lo scoppio di una guerra durante i giochi, avrebbe distolto l'attenzione del mondo dalla Cina. Cosa c'è secondo te di vero in questa affermazione? Beh, senza dubbio questa è la domanda delle domande, ovvero se Putin e Xi Jinping abbiano davvero discusso del tema e se la Cina abbia dato il suo assenso. Perché è importante? Perché vuol dire se le responsabilità delle vittime civili o di altro ancora possano ricadere anche su Pechino. L'impressione però, i segnali che abbiamo, è che molto probabilmente invece i cinesi non lo sapessero o perlomeno non si erano resi del tutto conto fino a dove Putin volesse arrivare. Abbiamo tante indicazioni, il fatto che non avesse evacuato i cittadini cinesi dall'Ucraina, il fatto che fino al momento prima Pechino continuasse a fare appelli per risoluzioni diplomatiche che sembrerebbero strane se tu già sai che tra due giorni qui si invaderà. Ha rischi di fare la figura di quello che non ha capito ciò che succede. E quindi probabilmente questa è l'impressione che abbiamo e oggi questo è un problema per Pechino. Perché l'idea di fondo, e non è un caso che ci sia questa China Obsession, è che la Cina sia corresponsabile. Loro ritengono di non esserlo e quindi puntano molto sulla tutela dei civili, sulla tutela anche dei civili cinesi sul territorio e cercano di allontanarsi da questo pieno sostegno. Il voto astenuto, l'astensione delle Nazioni Unite, va in questo senso. Non è un voto contro la Russia, ma neanche un voto a favore. Io continuo sulla linea della China Obsession, perché appunto credo sia un po' paradossale. Però proviamo a reggere questo ragionamento. Proviamo a confutare qualcosa. Una delle affermazioni più forti che vengono fatte in questi giorni è di dire la Cina da tutto questo ci guadagna, perché si avvicina alla Russia, mette in guai l'Europa e l'Occidente e ha solo da guadagnarci da questo conflitto. È così, Filippo? Io non credo. Io credo che invece oggi la Cina stia perdendo molto. Alla Russia era già vicina prima e comunque la Russia vale un decimo dell'economia cinese, per cui il vantaggio può essere soltanto relativo. E inoltre per ottenere questo vantaggio di avvicinamento alla Russia rischia di isolarsi dal resto del mondo. Noi già sappiamo che ovunque nei paesi avanzati, nei paesi occidentali, negli ultimi tempi non si parla altro che di una cosa, del contenimento alla Cina con la creazione dello nuovo spazio dell'Indo-Pacifico e con lo sviluppo di politiche che riducano la dipendenza economica dalla Cina. Dopo i fatti che stiamo vivendo in questi giorni, sicuramente questi paesi rinforzeranno le loro prospettive di allontanamento dalla leva economica di Pechino. Quindi io credo che sia una perdita in corso. Pensiamo anche a un'altra cosa. La nuova via della seta, la Belt Road Initiative, era un piano che certamente aveva la parte infrastrutturale, ma era anche un piano che puntava molto sulla narrazione della Cina che fa investimenti in favore dei paesi riceventi col mutuo beneficio. Quindi la Cina viene e aiuta. Se oggi però la Cina è coinvolta, a torto ragione, nelle responsabilità russe, tutta questa narrazione costruita negli ultimi otto anni si va a perdere. E tra l'altro la nuova via della seta sarebbe passata dall'Ucraina, o sbaglio? Sì, sicuramente l'interscambio fra Cina e Ucraina nel corso degli ultimi anni era aumentato tanto proprio perché ci erano stati accordi in favore di considerare il paese come porta d'accesso della via della seta. Oggi tutto ciò è in discussione. Chiaro. Vorrei farti una domanda che è un po' complicata, ma ci serve per capire. China obsession. Anche noi recentemente abbiamo parlato di questo paragone, di questa metafora che veniva fatta tra Russia e Ucraina e Cina e Taiwan. Ora, alcune analisi in generale semplificano la situazione, dicendo che Taiwan sarebbe l'Ucraina per la Cina. Ma è vero anche che, leggevo stamattina, che i media taiwanesi raccontano comunque di una crescente tensione all'interno dell'isola di Taiwan. Gente ha iniziato a informarsi su dove esistano, se esistano dei bunker. Insomma, questo conflitto, come viene visto, da Taiwan. La tensione sicuramente c'è, voglio dire che Taiwan convive con il timore di un'invasione cinese fin da quando sostanzialmente è nata. Però penso che bisogna allargare il campo e fare una valutazione. Se noi prima ci domandavamo quali lezioni la Cina avrebbe potuto imparare dalla risposta occidentale all'invasione o comunque dalla crisi farussia-ucraina, io credo che le risposte che Pechino si porta a casa è che se la partita è grossa l'Occidente risponde, senza contare che gli Stati Uniti probabilmente risponderebbero con maggiore forza a Taiwan. Oltre che bisogna considerare che un'invasione territoriale ha dei costi molto alti, soprattutto se non viene fatta in tempi rapidissimi. Siamo già a oltre una settimana di invasione russa e non sappiamo ancora quanto potrà durare con il rischio che la cosa vada avanti a lungo. Ecco, sicuramente Pechino oggi ha altri interessi piuttosto che andarsi a incastrare in un pantano come quello taiwanese. A partire da quest'anno sappiamo che c'è il congresso che per Xi Jinping sarà molto importante e forse l'unica cosa che lo può esporre a una riduzione di forza potrebbe essere un eventuale fallimento in un conflitto, in un contrasto con Taiwan. E poi, come ha ricordato Biden nel discorso sullo Stato dell'Unione, il tema di fondo è un altro, quello che conterà e che probabilmente ci ricorderemo di questo secolo è la competizione per il primato economico mondiale tra Cina e Stati Uniti. L'attenzione oggi è lì. Continuo su quest'onda e ti chiedo un'altra cosa. Noi abbiamo bloccato tantissime vie di finanziamento russe, abbiamo dato il via a sanzioni incredibili, appunto come tu dicevi l'Occidente c'è. Il fatto che l'Occidente c'è con sanzioni significa che stiamo andando verso un cosiddetto decoupling, uno sdoppiamento tra l'economia russa e quella occidentale. E questo è il messaggio forte delle sanzioni, il dire ok, tu vuoi fare la guerra all'Ucraina, va bene, ma non avere più a che fare con noi a livello commerciale, economico, finanziario. E lo diciamo noi che con la Russia abbiamo avuto sempre rapporti molto stretti commercialmente. Questo ovviamente è una finestra di opportunità per Pechino, cioè il dire, sai, la Russia non ha più vie di finanziamento, non ha più canali commerciali, non ha più canali di dialogo con l'Occidente. Beh, io per Pechino si apre un'autostrada per ampliare quella che è, come tu già dicevi, una relazione buona tra i due paesi. Sì, quello sicuramente la relazione si potrà rafforzare ancora di più, però la Russia vale un decimo dell'economia cinese e quindi le opportunità per Pechino sono inevitabilmente ridotte. Bisogna anche considerare l'ipotesi che i nuovi canali finanziari possono essere anche di appeal per altri paesi che corrono il rischio di essere sanzionati dai paesi occidentali. Questa è sicuramente una questione di rilievo e quindi oggi il RMB potrebbe cominciare effettivamente a internazionalizzarsi. Tutto ciò però va visto nel contesto in cui abbiamo già accennato della fiducia generale che il mondo può avere nei confronti di Russia e Cina. Appunto, già oggi è difficile che qualche paese vicino della Russia si fidi più di tanto della Russia, così come la Cina ha dimostrato che quando voleva ha utilizzato le leve economiche per fare coercizione economica e dunque molto probabilmente moltissimi paesi oggi cercheranno di diversificare e di ridurre la loro esposizione nei confronti di Cina e Russia. Quindi opportunità del RMB ma ancora da valutare nel contesto del consenso internazionale nei confronti della Cina. Scusami, per un esperto di Cina come te, se uno ti facesse una domanda, sai in questi giorni si dice ci vuole una figura o un paese neutro per neutrale che sia capace di mettere al tavolo le due parti, che sia capace di far arrivare le due parti a un compromesso accettabile per entrambi. Prima Silvia diceva che il Financial Times rilancia il ruolo della Cina. Dall'altra parte noi sappiamo che ci sono alcuni analisti ma anche per esempio per stare nel nostro cortile Andrei Kortunov che è il direttore di quello che possiamo definire l'ISPI russo, cioè un think tank russo molto vicino al Kremlin. Oggi sulla BBC diceva che sarebbe necessario l'intervento di una figura alta come Angela Merkel. Un esperto di Cina come te sceglierebbe Xi come negoziatore o Angela Merkel? Angela Merkel è di sicuro di positivo che è vista sicuramente con ottimi rapporti con la Russia ma anche molto amica della Cina. Ricordiamo che l'ultima sua azione in politica estera era la firma di un trattato bilaterale fra Europa e Cina. Il CAI. Il famoso CAI, Comprehensive Agreement on Investment, poi bloccato per ragioni di diritti umani. Quindi potrebbe essere quel soggetto. La Cina ha di positivo che probabilmente è l'unico soggetto che può appunto, se mai doveva essere possibile, avere una leva su Mosca. Dall'altro è comunque interpretata come tanto vicina a Mosca in questo caso. Viene vista come parte della partita. Ha torto o ragione. Anche perché se la Cina voltasse un po' le spalle alla Russia, questo che cosa comporterebbe per il Cremlino? Se la Cina voltasse le spalle al Cremlino, allora a quel punto la Mosca sarebbe sicuramente isolata e potrebbe poi aprire partite complicate con la Cina. C'è una ragione se Mosca e Pechino non sono alleate di fatto, ma sono una profonda amicizia, ma che non è un'alleanza completa e che comunque nel corso della loro storia hanno avuto diverse frizioni di confine e possono avere anche interessi diversi. Basti pensare all'influenza che la Cina può avere in Asia centrale, che era un po' al cortile di casa della Russia. Quindi diciamo che sicuramente alla Russia non conviene rompere le relazioni con la Cina. Quindi lì Pechino ha sicuramente il coltello della parte del manico, per quello diciamo che siamo gli unici forse a poter fare leva su Putin. Certo è, bisogna vedere quanto eventualmente potrebbero sacrificare i costi di quest'azione, oppure se invece poi segretamente ritengono che l'azione di revisione dell'ordine internazionale che sta facendo Putin oggi, seppur in un contesto che ha dei costi per Pechino, alla fine li convenga. Io non credo, però vedremo quello che succederà. No, grazie Filippo. Tra l'altro riprende qualcosa che tu hai spiegato brevemente in maniera molto chiara in un video che abbiamo pubblicato recentemente sul canale YouTube dell'ISPI. però io vorrei chiudere questa puntata, ci scusiamo da una parte perché è chiaro che con un conflitto in corso soffermarsi su un dettaglio così può apparire irrilevante e soprattutto non vogliamo dare l'idea che ci stiamo dimenticando di quello che sta succedendo sul campo. Sia Will che ISPI stanno seguendo con attenzione, con analisi. Il podcast fa parte delle nostre analisi e quindi abbiamo voluto approfondire un piccolo aspetto che però riteniamo importante proprio perché stiamo dando forse un'eccessiva importanza al ruolo di Pechino, stiamo dando un'eccessiva visibilità a un ruolo che si esiste, ma forse non dobbiamo guardare sempre tutto con le lenti della grande politica internazionale di chi ci perde e ci guadagna. Anche Pechino da questa cosa non ha soltanto da guadagnare e anche da perdere. Quindi ecco io Silvia ci darei appuntamento all'inizio della settimana prossima con il prossimo episodio, però ecco abbiamo contestualizzato questa puntata un po' atipica. Assolutamente sì, ti ringrazio per aver fatto questo appunto che per me è sempre molto importante. Ovviamente noi in questo momento stiamo cercando di fare un'informazione che sia un'informazione diretta e pulita, vi do due esempi. Adesso abbiamo pubblicato recentemente un video su YouTube in cui cerchiamo di spiegare qual è la figura di Putin, la storia della figura di Putin e anche un altro podcast che è su invece il ruolo delle reazioni e delle piattaforme tech alla crisi in Ucraina. Questo non vuol dire però che noi non siamo interessati a quello che sta accadendo sul campo e soprattutto alla grande tragedia umana che è in cima ai nostri pensieri. Ecco, grazie quindi Filippo per essere stato con noi oggi e noi ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.